Cassa di risparmio SparCasse Oltre 160 anni di esperienza ed impegno sono oltre 59.000 giorni per far crescere l'economia Oltre 120 filiali nel nord Italia, in Austria e Germania sono oltre 120 modi per essere vicini alle persone Oltre 2 miliardi di euro di valore aggiunto in 10 anni sono oltre 2 miliardi di ricchezza prodotta per il territorio Cassa di risparmio SparCasse La nostra competenza 200.000 clienti privati e 25.000 aziende sono 225.000 esigenze diverse da soddisfare ogni giorno Orientamento al cliente Oltre 1.300 collaboratori, 365 giorni all'anno sono oltre 2.600.000 ore di consulenza a servizio dei nostri clienti Innovazione e dinamismo 6 miliardi di euro di crediti erogati sono 6 miliardi di euro investiti nel futuro La nostra responsabilità Circa 25.000 azionisti che fanno parte della nostra famiglia Sono circa 25.000 persone per cui impegnarsi al massimo Cassa di risparmio SparCasse per una crescita bilanciata per clienti, collaboratori e azionisti I nostri settori commerciali per un'offerta completa Retail, private corporate e banking I nostri valori sono la nostra mission Rispetto, teamwork, affidabilità Cassa di risparmio SparCasse Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti